Biglietti e gli amici torna a Rimini per la seconda edizione, siamo contentissimi perché con la cultura non si sa mai salterina, a volte c'è, a volte non c'è, invece abbiamo i piedi saldi in questa città e questa città i piedi saldi nella cultura. 28, 29 e 30 giugno, parte il fotografo Steve McCary, ci sarà Alessandro Piperno, Francesca Micheline, Chiara Valerio, Jonathan Bazzi, tantissimi altri, non vediamo l'ora, Cecilia Sala, Mario Calabresi, Silvia Lucini, passeremo dalla cultura alla musica pop, al giornalismo d'inchiesta e affronteremo quello che Rimini ha fatto negli anni, essere curiosi, essere curiosi alla base della cultura e quindi vi aspettiamo. 28, 29 e 30 giugno 2022, Biglietti e gli amici in onore di Tondelli.